Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre Notte Horror 5 novembre Cortometraggi 6 novembre Videoclip, animazione e documentari Dal 4 al 6 novembre Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera commentano la notizia del giorno. La chiesa apre alla cremazione. Il Vaticano, dopo la congregazione per la dottrina della fede, ha messo nero su bianco il fatto che la cremazione non è vietata, anche se con delle precise condizioni. Ma lei cosa ne pensa di questa apertura della chiesa nei confronti proprio della cremazione? Beh, penso di sì, che sia giusto, anche se non approvo molto la cremazione. Come mai? Ma non così, mi sembra una cosa non bella, ecco, però ognuno, insomma, può fare certamente quello che vuole. Per la cremazione sono favorevole io. Come mai? Perché per me è una cosa che io un domani, quando succederà, ho già lasciato scritto che voglio essere cremata. Io sono d'accordo, penso sia una cosa giusta, che ognuno comunque possa scegliere se farsi cremare oppure fare la classica funzione, così, nel cimitero, classica funzione. La chiesa però ha specificato che la cremazione viene approvata dalla chiesa soltanto se le ceneri vengono conservate nei cimiteri, invece se tenute in casa o disperse nell'ambiente non è approvata. Sono d'accordo nemmeno io di tenerle in casa le ceneri, il cimitero credo che sia il posto giusto per i nostri defunti. Non approvo di tenere le ceneri, cioè secondo me non rappresentano la persona. Penso che per la chiesa faccia questa distinzione perché comunque è una funzione funebre e le ceneri vengono messe al cimitero come tutte le altre salme. Io sono d'accordo. Quindi lei è al contrario al fatto che vengano conservate nelle case o disperse nell'ambiente? Penso che sia più giusto che restino al cimitero insieme agli altri defunti, quello sicuramente. Poi, vabbè, giustamente ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io sono d'accordo che restino al cimitero. Penso proprio che invece io preferirai essere cremata per disperderle nell'ambiente. Perché secondo lei la chiesa non ha accettato, non accetta questa possibilità? Senta, io non credo nella chiesa e tutto, per cui tutto questo per me non esiste. Chiarissimo, grazie. Prego.